Quante volte capita a noi tutti di avere queste giornate così tanto frenetiche, arriviamo a casa dopo lavoro e non riusciamo a staccarci dal telefono perché siamo lì a controllare chi ci ha scritto le mail, magari ci anticipiamo qualcosa per il giorno dopo, insomma siamo diventati maniaci del lavoro. Ma c'è una buona notizia perché in Italia e in Europa, in alcuni paesi europei c'è il diritto alla disconnessione, ne parliamo con l'avvocato Del Nino e poi ci sarà anche l'avvocato Muston con noi questa sera per approfondimenti invece del Regno Unito. Avvocato Del Nino, buonasera, in Italia e in alcuni paesi europei c'è questo diritto, che cos'è e come funziona? Buonasera a voi e agli ascoltatori, buon anno anche alla collega avvocato Muston. Dunque, il diritto alla disconnessione è in realtà un nuovo diritto di inoperatività rispetto all'ambiente digitale, potremmo definirlo così. La pandemia ci ha insegnato molto bene cos'è lo smart working ma pochi sanno cos'è l'over working o l'always on, cioè il fatto di essere sempre connessi e quindi, come si è dimostrato in pandemia, il supposto diritto del datore di lavoro di contattare il suo lavoratore ad ogni ora del giorno e della notte, mentre in realtà ci sono delle norme ben precise. Ora, in Europa sono solamente 4 o 5 i paesi ad avere una precisa normativa. Sì, Italia, Francia, Spagna e Belgio per essere proprio precisi. Esatto, recentemente si è aggiunto il codice dei lavoratori irlandesi e poi nel mondo, se si va a vedere parlando di Commonwealth, l'Ontario ha proprio recentemente approvato una nuova legge. Quindi, l'Italia in realtà questa legge la avrebbe dal 2017, solo che è la legge 81-2017 sul cosiddetto lavoro agile, che se si va a leggere, ma nessuno prima della pandemia, solo per dare un po' di numeri, 570 mila smart workers prima della pandemia, 8 milioni in regime di emergenza, si prevede che nella nuova normalità comunque il ricorso allo smart working interesserà non meno di 5 milioni di italiani. Quindi questi sono un po' i numeri. Però prima della pandemia poco si conosceva questo articolo 19, che prevede il diritto alla disconnessione dalle piattaforme, dalle tecnologie, che va implementato con un accordo scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore. Quindi un contratto, nel contratto c'è scritto che noi dopo quella famosa giornata lavorativa, arriviamo a casa, possiamo trascorrere il tempo libero per noi stessi e anche con la nostra famiglia. Non solo. La prospettiva filosofica di questo nuovo diritto è che non è il datore di lavoro che deve aspettarsi la mancata risposta se mi contatta al di fuori dell'orario di lavoro, ma è il lavoratore che deve essere sollecitato a non rispondere al datore che lo contatta al di fuori dell'orario lavorativo. E poi, giusto per concludere la situazione di attualità italiana, proprio nel mese di dicembre ci sono stati due importanti accordi a livello di governo e di parti sociali, sindacati e la confindustria. Il 7 dicembre è stato adottato il protocollo per il lavoro agile nel comparto lavoristico privato, che prevede un articolo 3 sul diritto alla disconnessione. E il 16 dicembre, nel comparto della pubblica amministrazione, il Ministero della Funzione Pubblica si è accordato e ha emanato insieme, concordemente con le parti sociali, le linee guida sul lavoro agile nella pubblica amministrazione. Quindi abbiamo un quadro ormai molto articolato, anche se, devo dirlo, questo è un diritto che verrà declinato in maniera pratica attraverso gli accordi individuali tra i datori di lavoro e i lavoratori. Quindi se oggi vedete come si sviluppa in pratica, cosa significa in pratica, posso dirvi sì, non mi contattare, per esempio, nelle 11 ore di lavoro di riposo consecutivo che sono previste dai contratti collettivi nazionali, ma poi le modalità sono lasciate alle singole... Dipendono infatti dalle società anche private. Invece in Gran Bretagna, che cosa si dice, Avvocato Munston, in merito? Se ne parla? Se ne parla, ma pochissimo a livello governativo, nel senso che per questo governo al momento non è una priorità, anzi, diciamo che l'idea del governo attuale è quello di dirigersi verso la massima flessibilità, che rappresenta un po' una tensione, un conflitto rispetto all'idea dell'equilibrio vita-lavoro e del diritto alla disconnessione. Tanto è vero, come avete dato la notizia a voi, mi ricordo qualche settimana fa, che è stata lanciata a settembre una consultazione in materia di flessibilità se introdurre la possibilità di chiederla dal giorno 1 del rapporto di lavoro. La consultazione si è conclusa il primo dicembre, adesso siamo in attesa che il governo elabori i risultati di questa. Quindi al momento non se ne discute né bene. Questo non significa che non se ne parli a livello sindacale, nel senso che sindacati di alcune categorie, in particolare categorie professionistiche, professionali tipo di ingegneri, hanno invitato e stanno facendo lobby nei confronti del governo per introdurre una normativa in materia di diritto alla disconnessione all'interno di un disegno di legge che è già stato presentato, che è l'employment bill che giace ormai da mesi in Parlamento e che non sembra sia purtroppo in cima alla lista. Forse perché è comodo comunque avere delle persone smart working che lavorano e poi l'abbiamo notato durante la pandemia, questo smart working si mischia, lasciatemi passare questo termine, con la vita privata. Quindi ci sono queste persone al computer, non si rendono conto che passano le ore, passano le ore e la vita privata è completamente dimenticata. E allora che cosa scatta nel nostro cervello? Che non riusciamo proprio a staccarci e anche quando magari siamo in vacanza abbiamo sempre questo terrore dell'allarme delle email. Ma se invece ad esempio in Italia, avvocato del Nino, c'è magari, o in altri paesi europei dove è stato introdotto, c'è qualcuno che ci disturba, i datori di lavoro non rispettano questa legge, noi possiamo denunciarli? Allora, intanto ci sono dei decaloghi che insegnano ai lavoratori come staccarsi dalle tecnologie, perché poi è vero il diritto alla disconnessione, ma bisognerebbe domandare a molti lavoratori se in realtà si vogliono veramente disconnettere dalle tecnologie. Detto questo, sì, c'è in teoria e anche in pratica la possibilità di far valere la lesione del diritto al riposo, quindi la lesione del diritto del lavoratore alla salute nei confronti di quel datore di lavoro che andasse a violare le fasce di disconnessione. Perché, attenzione, la normativa italiana che c'è dal 2017 ha individuato solo dal 13 maggio di quest'anno la disconnessione come vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore. Poi, tra l'altro, non scendo nel tecnico, però alla fine del periodo di emergenza, cioè il 31 marzo del 2022, secondo l'ultimo decreto italiano, anche questo diritto verrà meno e si dovrà tornare all'accordo di cui parlavo prima. Comunque, fino al 31 marzo c'è questo diritto soggettivo che è un qualcosa di diverso dal diritto al riposo che è già codificato nel diritto del lavoro italiano. Perché gli stessi protocolli che citavo prima prevedono l'obbligo di individuare fasce di disconnessione all'interno dell'orario non lavorativo o lavorativo. Quindi, da questo punto di vista, la violazione da parte del datore che continua a tempestarmi su WhatsApp, via email, o in altro modo, può essere fatta valere come violazione del diritto alla salute del lavoratore e del diritto al riposo. Ecco, funziona invece così, Avvocato Mustoni, in Gran Bretagna? Ad esempio, quando noi ci sentiamo super stressati a causa del lavoro, allora in quel caso noi come possiamo comportarci anche davanti al datore di lavoro? Magari è in un periodo in cui non abbiamo la possibilità di prendere le vacanze ma noi cosa possiamo ricorrere? Sì, allora esistono delle normative che comunque tutelerebbero il lavoratore in caso di richieste di lavorare anche durante quelli che dovrebbero essere i periodi di riposo. Però dobbiamo dire che non hanno una grande efficacia quindi bisogna valutare attentamente poi di fatto che cosa sta accadendo. Mi riferisco innanzitutto alle cosiddette working time regulations che è la normativa che disciplina l'orario di lavoro in Inghilterra. Come sappiamo prevede un massimo di 48 ore lavorative settimanali in media però lungo, in un periodo calcolato in un periodo di 17 settimane quindi alle circa 4 mesi. Sappiamo però tuttavia che questa è una normativa che deriva dalla normativa europea in materia di orario di lavoro però sappiamo che i datori di lavoro britannici possono richiedere ai propri lavoratori il cosiddetto opt-out da questo limite di 48 ore quindi di fatto richiedere ai lavoratori di lavorare tranquillamente anche 60 ore a settimana di media senza nessun problema. Quindi c'è una tutela però c'è anche l'escamotage per evitarla. Sono ovviamente anche previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. C'è un obbligo sia espresso che implicito del datore di lavoro di tutelare la salute del lavoratore che ricopre anche il diritto di prendere beneficiare di riposi e periodi di vacanza sufficienti per il recupero delle energie fisiche. Ma anche perché ci sono delle ricerche scientifiche che dimostrano quanto anche in America in alcune aziende dove veramente le ore lavorative sono veramente frenetiche nel senso che sono lì 24 ore ma anche in Giappone ad esempio mettere sotto stress i dipendenti poi si rischia di perdere miliardi e miliardi di dollari ad esempio nelle aziende perché loro poi le devono pagare per aiutare queste persone a riprendere l'energia le malattie Sì anche perché si causano malattie causano problemi mentali sicuramente stress ansia burnout ma anche fisici nel senso può essere le lunghe ore davanti allo schermo problemi alla vista problemi di mal di testa emicranie mal di schiena per le ore passate allo schermo quindi diciamo comunque legate alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore c'è una grossa differenza tra l'Inghilterra e l'Italia al riguardo è che in Italia la soglia per determinare la violazione di questi doveri di tutela è abbastanza basso abbastanza semplice da dimostrare in Inghilterra è molto difficile deve esserci proprio una violazione che è eclatante perché ciò che è sufficiente che faccia il datore di lavoro è una ragionevole più o meno tentativo pratico esatto reasonably practical come dicono qua come dicono anche qui esatto come dicono qui io volevo anche un po' comprendere ma secondo lei avvocato Delino come mai soltanto così pochi paesi europei hanno introdotto il diritto alla disconnessione come mai se lei si è fatto un'idea insomma di questo che io intanto c'è da dire che a livello europeo dal 21 gennaio scorso il Parlamento europeo ha emanato una comunicazione che impegna la commissione a emanare una direttiva un regolamento vedremo probabilmente una direttiva che riconosca il diritto alla disconnessione come diritto fondamentale dei lavoratori per cui andiamo verso una situazione diciamo di omogeneità legislativa poi se sarà una direttiva un regolamento vedremo è ovvio che c'è la collega lo ha evidenziato bene per l'Inghilterra un certo atteggiamento restiglio a riconoscerlo perché va a impattare su quella che è il grande ben godi del momento lo smart working che i datori di lavoro interpretano come ti posso contattare in qualsiasi momento io ho anche un altro dubbio perché poi nel iperuraneo platonico nel migliore dei mondi abbiamo delle regole bellissime scritte ma quanti lavoratori avranno il coraggio di far valere diceva la collega in Italia è piuttosto semplice certo io basta che mi conservo gli screenshot dei whatsapp inviati dal datore al di fuori dell'orario di lavoro e costruisco una serie di molestie chiamiamole così da far valere di fronte al giudice ma al di là della situazione patologica di un rapporto di lavoro cioè il datore mi licenzia o mi richiama e quindi io mi precostituisco queste prove le faccio valere ma se io dovessi andare di fronte a un giudice durante un rapporto lavoristico normale col mio datore e far valere che mi ha chiamato alle undici e mezza di sera per venti giorni di seguito quanti avrebbero il coraggio di farlo quindi resta sulla reale portata pratica di norme che comunque è opportuno che ci siano e riconoscano questo diritto soggettivo beh sicuramente ci sarà qualcosa che lo renderà la normalità anche l'idea di magari tutelarsi tutelare la propria salute e magari se c'è veramente un datore di lavoro che mi disturba e non è scritto anche ed è che è scritto anche sulla legge che se mi disturba io posso fare qualcosa perché non ricorrere e certo diciamo che soprattutto io credo sarà un diritto azionato in quelle realtà aziendali molto sindacalizzate dove al sindacato viene messa in mano una nuova arma di tutela per i lavoratori quindi da questo punto di vista il mio dubbio di prima in realtà molto sindacalizzate viene un po' meno e invece in Inghilterra ad esempio abbiamo già accennato ad alcune idee che vorrebbero introdurre per tutelare ulteriormente i lavoratori le possiamo elencare in maniera più specifica perché c'è stata un po' di confusione ultimamente l'abbiamo visto anche con il partito laburista che insisteva nella House of Commons più di una volta con questa idea di ridurre addirittura le ore di lavoro ma questo non c'entra niente con il diritto alla disconnessione è ancora qualcosa di lontano sì esatto è ancora lontano e francamente al momento non è neanche presentato come un disegno di legge in nessuna delle camere quindi né nella House of Commons né nella House of Lords insomma diciamo che sono per adesso soltanto direttive di principio di quello che potrebbe essere perseguito da un partito o da un altro ma sicuramente l'attuale governo è indirizzato verso tutt'altra strada come abbiamo detto prima c'è questa tensione invece questo interesse verso l'idea della flessibilità che per carità può andare benissimo perché può accomodare le esigenze di tantissime persone la capacità di potersi interrompere la giornata lavorativa prima per poi riprenderla più tardi la sera quindi si tratterà molto sia da livello europeo che a livello UK se mai si introdurrà questo diritto alla disconnessione si tratterà di trovare l'equilibrio giusto tra le due posizioni perché ovviamente il diritto il diritto alla disconnessione che fa parte entra nell'ambito dell'equilibrio della vita e del lavoro quello che si chiama qui work life balance è un diritto che necessariamente impone certe rigidità al datore di lavoro ebbè certo in termini di orario quindi non si può disturbare dopo una certa ora non si può oltre alla fine dell'orario di lavoro mentre la flessibilità è l'esatto contrario quindi si tratterà soprattutto di trovare un equilibrio tra i due non è semplicissimo tra i diversi commenti tra l'altro in merito proprio a queste telefonate di datore di lavoro c'è Laura da Londra dice io lavoro a Londra appunto in un negozio quindi le settore retail pensate un po' che il mio datore di lavoro anche nei miei giorni di vacanza mi chiama se ha bisogno ecco su questa chiamata della nostra ascoltatrice io vorrei segnalare un aspetto che perlomeno in Italia impegna i commentatori e cioè che il diritto alla disconnessione attualmente è un diritto degli smart workers non per chi lavora in un negozio quindi c'è la grande tematica dell'estensione a tutti i lavoratori anche quelli tradizionali che lavorano in un ufficio o in un negozio che il diritto alla disconnessione non ce lo hanno a legislazione vigente quindi soltanto chi lavora in ufficio mettiamola così no chi lavora in smart working smart working chi lavora in smart working il diritto alla disconnessione è configurato in Italia come specifico diritto di chi lavora di chi fa il cosiddetto lavoro agile quindi se sono in smart working ho questo diritto ma se sto in ufficio non ce l'ho quindi questa è un'altra tematica da segnalare agli ascoltatori questo è molto importante perché non era abbastanza chiaro sinceramente lo chiarisco io ecco infatti l'abbiamo fatto questa sera parlando proprio delle persone in smart working Avvocato Del Nino le statistiche hanno dichiarato che c'è stato un aumento anche della produttività dei dipendenti grazie a questo nuovo diritto introdotto allora lo smart working in tutti gli studi che sono stati fatti a livello mondiale dimostra l'aumento della produttività perché perché che cos'è il lavoro agile o lo smart working è il non avere vincoli di orario e di luogo e di ragionare per perseguimento di obiettivi quindi io non ho vincoli di orario e di luogo ma ho maggiore responsabilizzazione essendo più coinvolto i psicologi del lavoro come altri studiosi hanno dimostrato che il lavoratore rende di più e questo a livello mondiale e invece in Gran Bretagna vediamo l'esatto opposto perché con la pandemia e lo smart working qui c'è stato un aumento di depressione e persone che invece non ce la fanno più è vero sono proprio dati scientifici che abbiamo notato ultimamente sì anche se è vero che anche qui l'aumento della produttività è stato l'incremento della produttività è stato enorme durante la pandemia proprio per questo pensate che lo smart working il lavoro quello che qui chiamano work from home è aumentato del 46 scusate anzi ha investito il 47% dei lavoratori però il work balance se vogliamo fare una statistica la produttiva non esiste più non esiste più esatto e noi ringraziamo l'avvocato Del Nino e l'avvocato Muson per averci chiarito in entrambi questi luoghi ormai divorziati Unione Europea e Gran Bretagna Regno Unito il diritto alla disconnessione speriamo che questo diritto possa essere esteso a tutti i lavoratori e non soltanto a quelli smart working e che arrivi anche qui in Gran Bretagna grazie buona serata grazie a voi buona serata e invece noi continuiamo con la nostra London Calling ci saranno ulteriori approfondimenti ma io prima di concludere anche la nostra prima parte con la nostra radiovisione se volete potete continuare a inviarci i vostri messaggi al nostro whatsapp lo 075865 97937 volevo darvi alcuni consigli per i maniaci del lavoro perché forse voi non ve ne rendete conto ma è diventato ormai un comportamento inconscio lo dicevo anche all'inizio della trasmissione siamo costantemente alcuni dicono on on life nel senso siamo sempre in connessione con i nostri smartphone con i nostri dispositivi digitali non fa bene la nostra salute anche il comportamento di stare a tavola e avere il telefono a tavola mentre magari ci sta parlando nostro marito nostra moglie i nostri figli i nostri amici prendiamo un aperitivo al bar insieme e siamo al telefono perché ci sta scrivendo la nostra collega o che ne so mia mamma no dovete cercare di abituarvi nuovamente a capire che bisogna staccarsi e godersi il momento insieme ai nostri amici quando andiamo fuori quando siamo in compagnia perché questo aiuta moltissimo anche a rendere di più successivamente sia nella vostra vita che nella vostra carriera quando fate delle vacanze spegnete i telefoni è una cosa difficilissima perché adesso anche con l'idea di voler postare le nostre foto i nostri video mentre siamo in vacanza sui social è diventato ormai una nostra cara abitudine che prendiamo da quando ci alziamo la mattina fino a quando andiamo a dormire però cercate di fare questi esperimenti e vedrete che anche la vostra visione della stessa vostra vita cambierà in maniera totale e vi farà molto bene detto questo io vi auguro una buona serata continueremo sempre con le news da Londra e dalla Gran Bretagna seguite London One ci potete ascoltare sia sull'app se non l'avete ancora scaricata potete farlo sul vostro smartphone iOS e Android e se preferite anche in macchina con CarPlay o Amazon Echo Auto ovunque voi siate grazie ancora e vi auguriamo una buona serata do you need an English language test for your UK visa settlement or citizenship application you're in luck because Pearson PTE Home is now approved by the UK Home Office you can conveniently book your test up to 24 hours in advance online or by phone our computer based test uses automated scoring delivers results fast typically available within 48 hours so whether you need to pass an English language test to start a new job or to build your new life permanently in the UK you can achieve your dream Pearson PTE Home and